Micelli la tocca di testa e la sfera, il nobile battuto si stampa incredibilmente sulla traversa, si infrangono su quel montante al 96esimo minuto le speranze di pareggiare la gara per la Fidelisandria sul campo della Virtus Francavilla, a cui basta invece un inserimento vincente di Mastropietro per battere i Biancazzurri, un secondo tempo arrembante di grande intensità per gli ospiti che sfiorano più volte il pari, ma anche la sorte al momento volta le spalle agli andriesi. Pesanti le assenze in casa Fidelis, Vito Di Bari, oltre allo squalificato Bubas, deve rinunciare anche agli infortunati di piazza, legittimo e benvenga, assenze che spingono il tecnico Biancazzurri a scegliere un 4-2-3-1 con Sorrentino, unica punta, il trio caso di Tulli-Gaeta, le sue spalle Maiorino e Patierro, il tandem d'attacco del classico 3-5-2 di Roberto Taurino, come spesso accade negli spazi angusti della nuova Redo Arena di Francavilla, il match è molto intenso, anche se sono tanti gli errori di impostazione da ambo le parti, più concreti i padroni di casa che ci provano subito con Patierno dalla distanza, bravissimo Saracco a deviare in corner, ancora più pericoloso forse il tiro, con il mancino sul palo più lontano di Pierno, su cui non ci arriva l'estremo difensore ospite, ma la sfera si accomoda di poco sul fondo, replica Virtus con Maiorino, il tiro da oltre 20 metri è ancora ben intercettato da Saracco, sempre decisivo, la squadra di casa abbassa il ritmo, la Fidelis si riposiziona con un più coperto 4-4-1-1 e la gara si trascina stancamente senza grandi sussulti, almeno sino al 33esimo, quando la Virtus ha il lampo giusto, è sempre in grosso a fuggire sulla sinistra ed è perfetto il suo cross profondo per l'inserimento di Mastropietro, completamente dimenticato dalla difesa schierata bianca-azzurra, il tocco è facile facile per il gol del vantaggio e su cui Saracco proprio non può arrivarci, la rete però anestetizza completamente il match che non ha più sussulti fino alla fine del primo tempo, ma la ripresa è un concentrato di emozioni, si parte subito con il tiro da lontano di Tulli, sempre l'estremo difensore ospite, chiude la porta ancora sull'attaccante numero 9, dopo 11 minuti di gioco, ma la Fidelis prende campo e coraggio e iniziano le occasioni importanti da rete, la prima arriva sui piedi di Gaeta dopo una discesa di Casoli a sinistra, il tiro finale è murato dal provvidenziale intervento di Franco, primo calcio d'angolo del match per gli ospiti e sulla palla scodellata in aria, arriva Monterisi che calcia a botta sicura da pochi passi ma è miracoloso, l'intervento distinto di Nobile con il ginocchio, si rinnova dall'altro lato il duello Patierno-Saracco, il primo calcia pericolosamente in aria, il secondo compie un intervento da campione con l'aiuto della traversa, non sella alla mezz'ora direttamente sul calcio di punizione, mette i brividi ai suoi ex tifosi, girandola di cambi per entrambi i tecnici ma dal cilindro di Bari Pesca-Ortisi che appena entrato prova un tiro a giro che Nobile, in precario o equilibrio, riesce ancora miracolosamente a deviare in corner, in pieno recupero è Ventola, sull'altro fronte a ritrovarsi in campo aperto a tu per tu con Saracco, ancora monumentale a chiudere tutto, ma al sesto minuto di recupero, il cross in aria disperato di Casoli, ritrova la testa di Miceli che tocca male Beffa-Nobile ma vede stampare il pallone direttamente sulla traversa, il momento no in casa Fidelis si vede probabilmente anche da questi episodi, ma ora bisognerà subito rimboccarsi le maniche per affrontare sabato prossimo il derby casalingo contro il Taranto.